Petra Sagan, complimenti, l'hai fatto. Puoi analizzare gli ultimi chilometri? Sì, voglio ringraziare oggi la squadra, grazie anche a un mio compagno di squadra che ha misure di bici abbastanza simili, perché dopo 100 chilometri ho rotto la bici e ho dovuto cambiare con lui e poi oggi non pensavo che può andare così bene e alla fine, sì, con chilometri stavo sempre meglio, meglio. Gli ultimi chilometri erano, sì, abbastanza difficili perché era sempre il gruppo che era pericoloso e erano tante cadute e poi alla fine sul Quaremont potevamo andare via con altri ragazzi che abbiamo ripreso altri tre corridori davanti e l'ultimo strappo ancora attaccato per rompere il nostro gruppetto per essere solo 3-4, alla fine siamo andati fino all'arrivo così Sì, sono molto contento che potevo vincere oggi e è una buona cosa per me perché mi sono ripreso dopo Sanremo un po'. Grazie.